Le occasioni per far schizzare la pressione sanguigna alle stelle non mancano di certo, ma trovare un misura pressione digitale, sfigmomanometro, dignitoso, a prova di non netto ed ad un buon prezzo, nello specifico a 18,99 euro, capita di rado. A questo giro il merito è di Eurospin che ne ha messo uno della medicura in bella mostra tra pentole e ciabatte. Spacchettato e testato al volo sembra svolgere senza tentennamenti il compito per il quale è stato progettato, basta indossare il bracciale di misura standard, premere il tasto di accensione ed attendere il bip di fine misurazione con i valori della pressione e del battito cardiaco ben visibili sull'ampio display. A presto. Ciao. 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 Ciao.